Benvenuti e bentornati sul mio canale, il mondo di Gerry. Questo video si inserirà nella playlist Ministro delle istruzioni bianche 2021-2022 e creerà una nuova playlist riguardo a .informatica. Ebbene sì, nel video precedente abbiamo visto i quadri di riferimento di valutazione della prova scritta 050 nel quale abbiamo scoperto che, nonostante che ci sono state le suddivisioni di diverse materie, ma anche questo quadro CTAV, il Piano Nazionale Scuola Digitale, il Digicom Edu e il Digicom 2.1 e la presenza ovviamente e della conoscenza della lingua inglese a livello B2. Per chi non mi conosce ho tratto anche argomenti per la classica concorsa 050 e non solo. Infatti nel mio canale troverete una serie di playlist di quiz commentati scienze naturali e chimiche e biologiche, delle video lezioni scienze biologiche e scienze chimiche e non solo, dei approfondimenti di scienze che ho svolto durante gli anni accademici all'università e un po' che riguardano le mie passioni, tra cui la cucina, le poesie, le riflessioni, i film, lo sport, la musica, luoghi e giochi e quant'altro. Grazie per l'attenzione. Ecco, come promesso andiamo, capiamo nel dettaglio cosa tratti il Piano Nazionale Scuola Digitale, il Digicom 2.1 e il Digicom Edu. Questo video lo divisi in due parti. Nella prima parte noteremo a livello europeo e nella seconda parte a livello italiano. In Europa dobbiamo ricordare che la Commissione Europea del 2010 ridige l'Agenda Digitale Europea e predispone una strategia per l'Europa 2020 nella quale si individuano azioni di innovazione, sviluppo economico e crescita della competitività utilizzando le potenzialità delle tecnologie digitali. L'obiettivo è quello di una crescita socio-economica e sostenibile in un mercato digitale unico e gli stati membri sono chiamati ad intervenire su sette arie di azioni denominate pilastri. Il pilastro del mercato digitale unico, il pilastro internet veloce e superveloce, il pilastro dell'interoperabilità e standard, il pilastro della fiducia e sicurezza informatica, quindi della security, il pilastro ricerca e innovazione, il pilastro dell'alfabetizzazione digitale e il pilastro delle TIC per la società. La strategia Europa 2020 cessa a quella approvata a Lisbona nel 2000 e al processo di come Penhagen per l'istruzione e formazione professionale del Barcellona 2002. Condividendo in alcuni aspetti, propone un progetto per l'economia sociale di mercato europea nel prossimo decennio sulla base di tre obiettivi prioritari, strettamente interconnessi che si rafforzano la vicenda. La crescita intelligente attraverso lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. La crescita sostenibile attraverso la promozione di un'economia a basse emissioni equinanti e efficienti sotto il profilo dell'impiego delle risorse e della competitività. La crescita inclusiva attraverso la promozione di un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. A fronte di questi tre obiettivi, la Commissione ha quindi deciso di definire sette iniziative faro con programmi di lavoro specifici in settori individuati quali importanti leve della crescita. L'unione dell'innovazione, Youth on the Movie, un'agenda europea del digitale per accelerare la diffusione di internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese. Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, una politica industriale per l'era della globalizzazione, un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro, la piattaforma europea contro la povertà. Quindi la DAE, la Digital Agenda for Europe, si fonda di tre pilastri, un totale di 101 azioni, l'impletazione passa attraverso una stretta collaborazione tra le istituzioni europee, i governi e gli stati membri e i governi hanno diretta responsabilità per 23 iniziative lungo tutti i pilastri. Come ho citato qui, i sette pilastri poi hanno i loro cosiddetti obiettivi principali. Per quanto riguarda il mercato digitale unico, l'obiettivo è quello di promuovere la creazione di un mercato digitale europeo unico e per il quale noi italiani, appunto, ministro Bianchi, la politica italiana deve essere al pari passo con la politica europea. E' per questo che la politica italiana deve andare a pari passo con la politica europea, perché ci deve essere comunicazione, scambio di contenuti, non a livello digitale ma anche a livello politico. Interoperabilità e standard, definire standard tecnologici condivisi che garantiscono l'interoperabilità tra operatori e tra prodotti e servizi delle pubbliche amministrazioni europee, la fiducia e sicurezza, cioè rafforzare la sicurezza nella società digitale e migliorare la friabilità dei servizi in rete per i cittadini, l'accesso internet per garantire la copertura totale dell'Europa con rete a banda larga e favorire la diffusione di rete ultraveloci di nuova generazione, ricerca e innovazione, aumentare e migliorare gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione delle TIC, l'afforbitazione, capacità e inclusione digitale, cioè l'obiettivo è aumentare le conoscenze delle TIC e della popolazione europea e garantire il pieno accesso di tutti i cittadini, benefici per la società dei derivanti dalle TIC, ossia garantire il provvedimento e sfruttamento delle potenzialità TIC a beneficio della società europea, quindi quelle capacità comunicative, tecnologiche e informatiche. Le azioni che gli stati membri dovranno attuare sono da dare priorità ai finanziamenti, che privilegino l'acquisizione di competenze digitali e che prevedono la fabbricazione digitale, sviluppare un quadro di riferimento per il riconoscimento delle competenze TIC, soprattutto per quanto riguarda anche l'alfabetizzazione digitale, incrementare la forza lavoro femminile nell'ambito delle TIC, definire indicatori europei in termine delle competenze digitali, assicurare l'accessività dei siti web della PA, della pubblica amministrazione, sostenere l'accesso delle persone disabili alle tecnologie e ai servizi TIC, implementare politiche di alfabetizzazione digitale anche come mezzo di inclusione sociale, rivolte ai cittadini e alle imprese soprattutto piccole e medie, e quella dell'e-learning, cioè implementare politiche nazionali, che favoriscono e sostengono metodologie di formazione a distanza. Come vedete nel grafico, come citato prima, l'Italia occupa tuttora il schema del 2019, le ultime posizioni, la prima è la Finlandia. A fine di valutare lo stato di avanzamento degli stati membri dell'Unione Europea, la Commissione Europea ha elaborato il Digital Economy and Society Index, il DESI, che attraverso una serie di indicatori misura cinque aspetti dell'evoluzione digitale, connettività, capitale umano, uso di internet, integrazione della tecnologia digitale e servizi pubblici digitali. I cinque componenti di valutazione dell'indice di digitizzazione dell'economia della società fa pensare appunto che questa forbice di divario tra gli altri stati membri dell'Unione Europea bisogna rimediare, cioè nel senso che la cognitività, la capitale umana, l'uso di internet, l'integrazione delle tecnologie digitali, servizi pubblici digitali devono avere appunto un equilibrio tra i diversi stati membri. Faccio notare che non soltanto la Finlandia, la Svezia, l'Olanda, la Nemarca sono, sono in questo schema qui, sono top. Invece l'Italia, la Polonia, la Grecia, la Romania e la Bulgaria occupano gli ultimi posti. L'Horizon 2020 mostra particolare attenzione al sviluppo di stronti innovativi e innovativi per la didattica a livello europeo. Grazie a questo strumento qui, pur considerando è prettamente strumentale la costruzione di una progettualità innovativa che convolga tutti gli altri attori del sistema industriale, fino a giungere al coinvolgimento di privati e fornitori attivi nel settore di high-tech e dell'editoria. L'Horizon 2020 riguarda la scuola come luogo chiave per l'apprendimento, che è però solo una parte di una rete più ampia di luoghi di apprendimento fisici e virtuali dove il processo di apprendimento è in continuo di venire. L'Horizon 2020, dunque, invita le scuole a stringere legami forti con gli altri ambienti, quindi connettività, che possono e devono partecipare all'innovazione. A tal fine il programma mira un forte coinvolgimento delle aziende impegnate nello studio di tecnologie innovative per la scuola, destinato a tale linea a finanziamenti importanti come 17 miliardi sui 70 disponibili. Infatti saranno destinati all'Unstral Leadership, un dato che darà la misura dell'interesse dell'Unione Europea nel sostenere maggiori investimenti in tecnologie chiave, tra cui quelle promesse per l'istruzione. Quindi l'Horizon 2020 è un unico programma che mette insieme tutte le attuali linee di finanziamento nel campo della ricerca e innovazione quale settimo programma quadro di ricerca e il programma quadro per la competitività e l'innovazione. L'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia e i tre obiettivi principali sono l'Exam Science, la scienza che è competitiva ma ha anche allo stesso tempo sostenibile. L'Industrial Leadership, diretta a sostenere la ricerca e l'innovazione con una forte attenzione verso le tecnologie abilitanti e investimenti a favore delle piccole imprese, è una sfida, le famose sfide, cioè quella della competitività infatti ad affrontare le grandi sfide globali nei settori della salute, il cambiamento demografico e il benessere, della sicurezza, dell'alimentazione, dell'agricoltura sostenibile, bioeconomia, dell'energia sicura, pulite le efficienze. Questo tutto ciò è conforme ovviamente alla Genia 2030, a 17 obiettivi quadro del Genia 2030. Infatti l'Horizon 2020 è un'iniziativa a fare la strategia europea 2020 volta a garantire la competitività globale dell'Europa. E in Italia cosa succede? Certo, dobbiamo conformare, dobbiamo stare a pari passo con l'Europa. Questo è, la politica va a pari passo anche con l'istruzione. Difatti le forze maggiori vengono dalla politica. L'Agenda Digitale Italiana, istituita nel 2012, rappresenta l'insieme di azioni e norme per il sviluppo delle tecnologie dell'innovazione dell'economia digitale nell'attuazione dell'Agenda Digitale Europea. E l'Agenda Digitale Italiana individua sei assi strategici. Il primo le estende le azioni del Piano Nazionale, Scuola Digitale, il PNSD che vediamo tra poco, in ovviamente nei suoi obiettivi, cioè il Banda Larga per la didattica nelle scuole, la Cloud per la didattica, contenuti digitali, libri di testo, formazione agli insegnanti, ambienti di Blending Day Learning, l'IMI, Book, con l'obiettivo di trasformare gli ambienti di apprendimento, affrontare il problema di inclusione sociale, anche attraverso soluzioni di telelavoro. I colleghi di TFA magari mi potranno dire anche di più riguardo all'inclusività digitale. Nonostante che ci siano tantissimi strumenti per i ragazzi BES, mediare strumenti e non eccedere tali strumenti per BES è un'ottima iniziativa anche di compensazione. Incentivare i target femminili all'uso delle tecnologie TIC, sensibilizzare all'uso critica e consapevole dei contenuti e delle infrastrutture della rete, promuovere l'uso delle TIC nei vari settori professionali, nel mondo del lavoro pubblico e privato, per garantire la riqualificazione e la formazione professionale continua e sostenere attraverso le campagne di comunicazione istituzionale l'utilizzo delle tecnologie e della promozione delle conoscenze. Il decreto legge 83 del 2012, convertito con legge 134 del 2012, vuol dire convertito che c'è stata precedentemente la legge e poi c'è stata qualche modifica e è diventata legge 134, ma la legge è sempre del 2012, istituisce l'agenda per l'Italia digitale, quindi come abbiamo un'agenda europea, in Italia c'è un'agenda italiana, la chiamata AGID, l'agenda per l'Italia digitale. Il decreto, convertito con legge 134 del 2012, affida di portare avanti gli obiettivi dell'agenda digitale italiana, definiti dalla cabina di regia, monitorando l'attuazione dei piani delle TIC, della pubblica amministrazione, e promuovendone annualmente dei nuovi, in linea con l'agenda digitale europea. definisci inoltre tale legge le funzioni e promuove e diffonde le iniziative di affabetizzazione informatica rivolte ai cittadini. Questo è un punto molto importante per quanto riguarda l'alfabetizzazione, almeno non ho inserito il grafico del 2020 riguardo all'alfabetizzazione italiana, e anche coloro i quali abbandonano la scuola, nonché di formazione e i famosi NIT, ecco, i famosi NIT, nonché di formazione e addestramento professionale destinata ai pubblici dipendenti, anche mediante intese come con la scuola, superiore a PA e ricorso a tecnologie didattiche innovative, le famose TED, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, la legge 179 del 2012, poi convertita con legge 221 del 2012, affida un importante ruolo all'Agenzia per l'Italia Digitale, l'Agid. Infatti, promuove la definizione e sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'agenda digitale italiana, in conformità al programma europeo Horizon 2020, per il quale io vi ho citato prima l'Horizon 2020, così avete capito il motivo per il quale dobbiamo essere pari passo con l'Europa, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici e rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, e i relativi servizi, la valorizzazione digitale e beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti, la logistica, la difesa, la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze ricerca e innovazione industriale. L'agenda digitale italiana, infatti, la principale iniziativa è il famoso Piano Nazionale Scuola Digitale, emanato col DM 851 del 27 ottobre 2015, quindi risale già dal 2015, oggi siamo nel 2022, fate voi i conti che dal 2015 lo docente deve avere una panoramica del Piano Nazionale Scuola Digitale e non solo, infatti, come noteremo a breve, le famose TIC, le famose 8 competenze chiave, il Digicomp 2.1 e per quanto riguarda anche gli educatori Digicomp Edu, cioè noi insegnanti, come dobbiamo anche interagire. Infatti, il Piano Nazionale Scuola Digitale dobbiamo ringraziare l'agenda digitale italiana, la famosa AGID. Il PNSD è un documento in dirizzo del MIUR per il lancio di una strategia complessiva di innovazione nella scuola italiana per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. Il digitale è cui si fa rifermente definita al contempo nastro trasportatore, alfabeto e agente attivo dei grandi cambiamenti del nostro tempo, espressioni metaforiche che sottolineano l'invito ad adottare un approccio non tecnico centrico al digitale. Il Piano è strutturato su quattro nuclei fondamentali strumenti, competenze, contenuti, formazione e accompagnamento. L'ora strumenti, mettere le scuole nelle condizioni di praticare l'opportunità della società dell'informazione, quindi accessibilità, viabilità, competenze degli studenti, rafforzare le competenze sull'alfabetizzazione informatica e digitale, introdurre al pensiero logico e quindi alla critica logica coloro i quali appunto i studenti che apprenderanno poi gli anni alle superiori devono raggiungere quel ragion per cui quel quid, quel pensiero logico e critico che verrà valutato poi all'esame di Stato e computazionale familiarizzare con gli aspetti operativi delle tecnologie informatiche, portare ad essere utenti consapevoli di ambienti e strumenti digitali ma anche produttori, creatori e progettisti. La formazione personale promuove l'innovazione didattica ebbene sì, tenendo conto di tali tecnologie la formazione del personale è molto importante e anche aggiungo qui anche l'aggiornamento della formazione personale, l'accompagnamento vi è appunto la figura tra il collegio individuare un animatore digitale in ogni istituto per la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica e la creazione di soluzioni innovativi. Le azioni previste sono organizzate in nuovi ambiti di lavoro, accesso, spazi e ambienti per apprendimento, identità digitale, amministrazione digitale, competenze degli studenti digitali, imprenditorialità e lavoro, contenuti digitali, informazione del personale e accompagnamento. Il piano nazionale scuola digitale con valenza ricordata pluriennale sarà realizzato attraverso l'impiego di più fonti di risorse a favore dell'innovazione digitale tra cui i fondi strutturali europei, il famoso PON istruzione 2014-2020 ed è la legge 107-2015 della buona scuola. Come notate qui ho inserito sia i nuclei sia gli obiettivi sia le azioni. Il nucleo dell'accesso gli obiettivi è fornire a tutte le scuole le condizioni per l'accesso alla società dell'informazione, fare in modo che il diritto a internet diventi una realtà a partire dalla scuola e coprire l'intera filiera dell'accesso digitale della scuola per abilitare la didattica digitale. Le azioni quello appunto che servirà poi al concorso è capire qual è l'azione relativa collegata appunto quindi azione 1 fibra per banda ultra larga la porta di ogni scuola azione 2 cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole LAN e VLAN azione 3 canone di connettività al diritto a internet a parte a scuola quindi ora vi leggerò l'azione con la sua relativa dicitura nucleo spazi ambienti per l'imprendimento azione 4 ambiente paradidattica digitale integrata come notiamo anche l'azione 5 challenge prize per la scuola digitale azione 6 linee guida per le politiche attive di bring your own device cioè i dispositivi elettronici azione 7 piano per l'apprendimento pratico i famosi laboratori digitali esempi i laboratori sono mostrati in figura anche i famosi fab lab che sono spazi condivisi dove vengono coltivate e se possibile finanziate le migliori idee digitali ai giovani e crescono i makers nucleo dell'identità digitale l'azione 8 sistema di autenticazione unica azione 9 un profilo digitale per ogni studente azione 10 un profilo digitale per ogni docente poi ovviamente qui viene introdotto l'identità digitale lo speed faccio notare appunto gli obiettivi il nucleo dell'amministrazione digitale l'azione 11 digitalizzazione amministrativa della scuola pago in rete azione 12 registro elettronico azione 13 strategia dati della scuola anagra e fai scolastica e studenti le competenze degli studenti le azioni l'azione 14 un framework comune per le competenze digitali degli studenti che lo vediamo tra poco l'azione 15 scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate azione 16 una research unit per le competenze del ventunesimo secolo l'azione 17 portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria l'azione 18 aggiornare il curriculum di tecnologia allo scuola secondario di primo grado come faccio notare l'azione 15 successivamente l'azione 14 che vedremo bene le competenze digitali quel nucleo delle digicomp l'azione 15 l'obiettivo di questa azione è creare e certificare almeno 20 format di percorsi didattici a cui i docenti possono attingere e utilizzare in classe i percorsi saranno sull'economia digitale la comunicazione l'interazione digitale le dinamiche di generazione analisi rappresentazione dell'uso di dati i making la robotica educativa l'internet delle cose l'arte digitale la gestione digitale le culture heritage la lettura e la scrittura in ambienti digitali misti il digital storytelling la creatività digitale ovviamente è un po' anche che riguarda un po' ciò che concede anche nel digital storytelling anche il CLIL il nucleo della digitale imprenditoriale e lavori inoltre prosegue con l'azione 19 con un curricolo per l'imprenditorialità digitale il girls in tech and science l'azione 21 il piano carriere digitali i contenuti digitali con l'azione 22 standard minimi e l'interoperabilità degli ambienti online per la didattica l'azione 23 promozione delle risorse educative aperte l'OR e linee guida su autoproduzione contenuti didattici l'azione 24 biblioteca scolastica e come ambienti di alfabetizzazione all'uso delle risorse informative digitali la formazione personale l'azione 25 formazione in servizio per l'innovazione didattica organizzativa l'azione 26 rafforzare la formazione iniziale sull'innovazione didattica l'azione 27 assistenza tecnica per le scuole di primo ciclo il nucleo della formazione personale concenne poi l'azione 28 un animatore digitale in ogni scuola come citato prima l'azione 29 accordi territoriali l'azione 30 i stakeholders club un club di stakeholders cioè un insieme di stakeholders per la scuola digitale che mettono in correlazione con le altre attività l'azione 31 una galleria per la raccolta di pratiche ovviamente qua riguarda un po' la burocrazia l'azione 31 l'azione 32 dare alle reti innovative un ascolto permanente quindi riguardo al monitoraggio l'azione 33 osservatorio per la scuola digitale l'azione 34 un comitato scientifico che alligna il piano alle pratiche internazionali l'azione 35 il monitoraggio dell'intero piano e credo che siano finite qua infatti va lascia a voi leggere bene gli obiettivi ma al concorso sono le domande che sono uscite appunto cioè l'azione con la sua dicitura ho aggiunto inoltre le 8 competenze chiave europee perché sono fondamentali il 18 dicembre 2006 la gazzetta ufficiale dell'unione europea quindi a livello europeo ha pubblicato la convenzione del parlamento europeo e del consiglio relativa competenze chiave per l'apprendimento permanente il documento definisce 8 macro competenze ed invita gli stati membri a sviluppare l'offerta nell'ambito delle loro strategie di apprendimento permanente le competenze chiave sono quelli di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e sviluppo personale la cittadinanza attiva l'inclusione sociale e l'occupazione il primo chiave è la comunicazione della madrelingua 2 comunicazione della lingua straniere 3 competenze matematiche e competenze di base in scienza e tecnologia 4 la competenza digitale ciò che abbiamo anche citato nell'azione digitale 14 quindi un framework comune per le competenze digitali studenti imparare e imparare competenze sociali civiche spirito di iniziative e imprenditorialità consapevolezza e espressione culturale un importante passaggio del documento stabilisce che esse sono considerate ugualmente importanti infatti non va quindi stabilita tra di esse una gerarchia ho fatto una comparazione della combinazione del 18 dicembre 2006 con la combinazione del 22 maggio 2018 è evidente e notevole notare che la competenza digitale al di là che si sia un po' non in modo gerarchico disposte ma non soltanto qualche frase è cambiata come anche qui la competenza in materia di consapevolezza al di là che nel 2006 non c'era questa competenza ma soltanto consapevolezza c'è nella competenza di capire nella consapevolezza ed espressione culturale comunque faccio notare che la competenza digitale è quella in voga e rimanda all'azione 14 del piano nazionale scuola digitale quindi è molto importante perché infatti ciò che è cambiato nel 2006 nell'arcomodazione del 2018 la competenza digitale presuppone l'interesse per tecnologie digitali loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere lavorare e partecipare alla società essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale la comunicazione e la collaborazione l'alfabetizzazione mediatica la creazione dei contenuti digitali la sicurezza le questioni legate alle proprietà intellettuali e la risoluzione dei problemi e il pensiero critico invece riguardo al 2006 c'era quella comunicazione di dire guarda in base alle abilità delle TIC quindi Information and Communication Technology dell'economia dell'informazione e della comunicazione nel 2006 dicevano l'uso del computer per reperire valutare conservare e produrre ultimamente il ministro Bianchi ha fatto notare questa cosa scusate cosa ma comunque Bianchi ha sollecitato che chi usa il computer deve allontanare da quell'ottica di io uso il computer per reperire per valutare per conservare produrre per salvare scambiare informazioni cioè nel senso l'uso del computer deve essere competente per salvaguardare appunto se stessi tra cui la security e noi qui si apre tutto il mondo la cyber security tutta una serie di discorsi e argomenti riguardo alla sicurezza digitale l'alfabetizzazione la comunicazione la collaborazione quindi la netta differenza è proprio in quella di citura lì cioè il fatto che la competenza digitale presuppone l'interesse per tecnologie non soltanto per la saguardia di se stessi ma anche per gli altri nell'azione 14 quindi nel nucleo delle competenze degli studenti in azione 14 dice che è un framework comune per le competenze digital degli studenti quindi le framework è un quadro di riferimento infatti la competenza digitale è inoltre parte dell'agenda digitale per l'Europa e propone di sfruttare al medio il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire l'innovazione e la crescita economica e il progresso la creazione della struttura e il modello Digicomp sviluppato dal centro comune di ricerca della commissione europea prima versione del Digicomp fu nel 2013 quindi prima del 2015 il modello Digicomp è un quadro comune di riferimento europeo per le competenze digitali quindi un framework la raccomandazione del 2006 e quindi Digicomp sta per competenze chiave per l'apprendimento permanente ripetiamo competenze chiave per l'apprendimento permanente è un punto di riferimento per le iniziative dei stati membri volte a sviluppare e migliorare le competenze digitali dei cittadini le competenze chiave per l'apprendimento permanente individua competenze digitali in termini di conoscenza abilità e atteggiamenti le competenze chiave per l'apprendimento permanente fornisce una definizione dinamica della competenza digitale che non guarda all'uso di strumenti specifici ma i bisogni di cui ogni cittadino della società dell'informazione e comunicazione è portatore bisogno di essere informato infatti quello che dicevo prima è quello che accenna anche Bianchi ultimamente in una sua ultima intervista bisogno di interagire bisogno di esprimersi cioè uso il computer per bisogno di protezione bisogno di gestire situazioni problematiche connesse agli strumenti tecnologici e ambienti digitali le competenze chiave per l'apprendimento permanente e impiegabili per tutti i cittadini il modello Digicompo consente una descrizione condivisa delle competenze digitali di cittadini usato per paragonare i certificati e percorsi di apprendimento tra uno strato e l'altro serve per stimolare la creazione di nuovi corsi e iniziative per migliorare la competenza digitale e può essere usato in diversi contesti per supportare migliorare lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini il modello Digicompo nelle esperienze si è usato inoltre in ambiti di occupazione per definire competenze digitali in determinate categorie di lavoratori anche le famose quadri delle etichette che sono state aggiornate il modello è stato usato in ambiti educativi in Europa nella creazione di programmazioni per la scuola dell'obbligo per la formazione di insegnanti e per i corsi per adulti mi fa pensare in ambito lavorativo di alcuni lavoratori extrascolastici l'etichetta QF magari scrivetelo nei commenti se sto dicendo una cosa errata ma comunque andiamo avanti nella versione 2.1 quindi dal 2013 al 2017 passano gli anni c'è stato un aggiornamento questo aggiornamento è confermata la suddivisione delle 21 competenze specifiche in 5 anni di competenza che vediamo tra poco i livelli di padronanza sono 8 in 3 dimensioni e lo vediamo tra poco sono presenti nuovi esempi d'uso grande attenzione dedicata alla presentazione grafica del framework per facilità nella comprensione dell'implementazione come sono presentate tali competenze le competenze in DigiComp 2.1 sono presentate considerando 4 dimensioni la dimensione 1 l'area delle competenze la dimensione 2 di scrittori e titoli della competenza la dimensione 3 livelli di padronanza dimensione 5 esempi d'uso voi mi direste la dimensione 4 delle conoscenze dell'abilità e dell'attitudine non è inclusa ma a volte fa riferimento anche alla dimensione 4 ma fa riferimento alla conoscenza dell'abilità e dell'attitudine qui ho mostrato le 21 competenze e le 5 aree quindi le aree dell'informazione della comunicazione della creazione dei contenuti della sicurezza e problem solving le competenze ovviamente riferite a ciascuna area quindi le informazioni avremo navigare valutare memorizzare la comunicazione interagire condividere impegnarsi collaborare in etichette gestire l'identità digitale le accreazioni contenute avremo sviluppare integrare il copyright programmazione la sicurezza proteggere dati e dispositivi tutelare e proteggere problem solving risolvere identificare innovare identificare lascio questa diapositiva per appunto per osservazione ecco rispetto al 2019 la legge 92 del 2019 qui ho messo a confronto appunto sempre per quanto riguarda il digicom 2.1 l'alfabetizzazione su informazione e dati comunicazione e collaborazione la creazione di contenuti digitali la sicurezza e risolvere problemi come vedete nel file pdf che ho legato in descrizione qui ho riportato la spiegazione di come vengono presentate le competenze qui in alto vi sono presentati gli 8 livelli di padronanza il nome del livello di padronanza in digicomp nel paragrafo ogni punto dell'elenco corrisponde al descrittore delle competenze che allo stesso tempo viene rappresentato come risultato di apprendimento inoltre i verbi di azione che ho citato prima e parole chiave sono evidenziati in grassetto e il primo paragrafo descrive la complessità dei compiti e dei problemi da risolvere e il grado di autonomia quindi anche lì la buona scuola quindi sempre l'autonomia scolastica che fa riferimento verbi di azione parole chiave sono evidenti in grassetto invece a sinistra notiamo l'area delle competenze il titolo di scrittore della competenza nella barra verticale sono indicate l'area di competenze il titolo di scrittore della competenza ad ogni area di competenza che ha abbinato un colore la memorizzazione magari è basata sui verbi di azione parole chiave che sono messi in evidenza con l'uso di grassetto al fine di renderli facilmente individuabili e riconoscibili per quanto riguarda il framework europeo delle competenze digitali il digicomp edu spieghiamo il motivo sempre in ambito europeo sono stati sviluppati altri studi in particolare l'innovative edu svolto tra il dicembre 2014 e giugno 2017 quindi circa sei anni fa dalla commissione europea in particolare della redizione generale per l'istruzione e la cultura e dal centro comune di ricerca di Siviglia gli obiettivi e il progetto innovativo edu includevano digicomp edu digicomp org e il digital competence framework for consumers noi ovviamente cerchiamo di capire il digicomp edu ciò che è richiesto dal bando della classe di concorso a 050 certo che accennerò semplicemente quello digicomp org e il consumers il centro comune di ricerca è quel centro comune per il servizio scientifico interno della commissione fornisce un supporto al processo decisionale dell'Unione Europea mediante consulenza scientifica indipendente basata sulle prove concrete per quanto riguarda il digicomp edu come professionisti dedicati all'insegnamento hanno bisogno oltre alle competenze digitali generali per la vita e il lavoro di competenze digitali quindi siamo noi docenti e dobbiamo aggiornarci riguardo le competenze digitali e il digicomp edu è d'aiuto lo scopo infatti di questo quadro è quello di individuare e descrivere queste competenze digitali che sono specifiche per gli educatori distingue 6 diverse aree in cui la competenza digitale dell'educatore è declinata in un totale di 22 competenze che vediamo tra poco infatti professional engagement digital resources digital pedagogy digital assessment quindi la valutazione digitale empowering learners facilitating learners digital competence andiamo un attimo anche nell'ottica italiana che ho riportato in inglese infatti le sei aree di digicomp ed focalizzano attenzione su diversi aspetti di attività professionali educative l'area 1 l'impiego professionale di cui fa notare l'usare le tecnologie digitali per la comunicazione la collaborazione e sviluppo professionale l'area 2 risorse digitali ricercare creare condividi risorse digitali l'area 3 insegnare apprendere gestire orchestrare l'uso delle tecnologie digitali nel processo di insegnamento e apprendimento area 4 valutazione utilizzare tecnologie digitali strategie per migliorare la valutazione l'area 5 valorizzare gli studenti utilizzare tecnologie digitali per promuovere l'inclusione la personalizzazione e coinvolgimento attivo degli studenti l'area 6 facilitare lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti incoraggiare gli studenti a utilizzare in modo creativo e responsabile le tecnologie digitali per l'informazione la comunicazione la creazione di contenuti il benessere e la risoluzione dei problemi qui ovviamente faccio notare che in ogni area come qui data management ad esempio 1.1.1 l'ho messo in italiano qui l'ho messo in inglese comunque sta rifatti che nell'area 1 c'è l'impiego professionale appena descritto nell'area 1 c'è la gestione dei dati quindi utilizzare strumenti digitali per memorizzare recuperare analizzare e condividere dati amministrativi dati relativi agli studenti in modo efficace e sicuro comunicazione organizzativa utilizzare le tecnologie digitali per migliorare la comunicazione organizzativa con i discenti genitori delle terze parti ad esempio in un colloquio collaborazione professionale utilizzare le tecnologie digitali per collaborare con altri educatori ovviamente certo e sì con i colleghi pratica riflessiva per riflettere individualmente valutare criticamente e sviluppare attivamente la propria pratica pedagogica digitale e 1.5 sviluppo professionale digitale continuo utilizzare risorse e fonti digitali per sviluppo professionale continuo faccio notare che queste aree qui l'area 1 che ovviamente fermate il video e lo leggerete con calma fa a mia riflessione un po' alla famosa UDL Universal Design Learning ebbene sì come la struttura è quasi simile la struttura è quasi simile ma fa ricorrere un po' quella appunto del UDL che farò un video in particolare inoltre l'area 2 risorse digitali quindi selezioni risorse digitali organizzare condividere pubblicare le risorse digitali creazione modifica delle risorse digitali la pedagogia digitale quindi l'area 3 l'istruzione interazione tra insegnanti discenti collaborazione con gli discenti e l'apprendimento autogestito l'area 4 valutazione digitale format di valutazione analizzare le prove il feedback e planificazione l'area 5 potenziamento di discenti accessibilità e inclusione differenziazione e personalizzazione e convergimento attivo di discenti impegno attivo e creativo l'area 6 potenziamento delle competenze digitali discenti informazione alfabetizzazione sui media comunicazione collaborazione digitale creazione dei contenuti digitali benessere welfare infatti risoluzione dei problemi digitali ogni area come vediamo l'area 1 2 3 4 5 6 e abbiamo detto poi ogni area la sua sotto area cioè come abbiamo detto prima l'area 6 la sua sotto area ha anche il loro livello di padronanza cioè le keywords come faccio notare c'è la 1 come nel livello di inglese la 1 la 2 b1 b2 c1 c2 ecco allo stesso modo anche il livello di partenza anche quando valutiamo uno studente ci sono le sue aree e i suoi livelli di padronanza comunicativi di competenze anche perché no no di gestione emozioni e quant'altro certo è che ricordare tale tabella è un po' ostico ma comunque si rappresenta in questo modo a sinistra le aree e in alto i livelli infatti nel livello dal più basso al più alto si sono i nuovi arrivati che hanno avuto pochi contatti con gli strumenti digitali hanno bisogno di essere guidati per espandere il loro repertorio gli esploratori che hanno iniziato ad utilizzare gli strumenti digitali senza tuttavia un approccio globale o coerente gli esploratori hanno bisogno di apprendimenti e ispirazioni per ampliare le proprie competenze gli entusiasti che sperimentano con strumenti digitali per una serie di scopi cercano di capire quali strategie digitali funzionano meglio in quali contesti i professionisti utilizzano una gamma di strumenti digitali con confidenza creativa e atteggiamento critico per migliorare le proprie attività professionali pratiche gli esperti c'è uno che si basano su un ampio repertorio di strategie digitali flessibili complete ed efficaci e più neri c'è due che si interrogano l'adeguatezza delle pratiche digitale e pedagogiche contemporanee di cui essi stessi sono esperti guidano l'innovazione e sono un modello di ruolo per gli insegnanti più giovani bene ora notiamo un po' la differenza nonostante che non sia scritto nel quadro di valutazione nella prova scritta il Digicomp Org e Digicomp Consumers per quanto riguarda Digicomp Consumers si basa sul quadro europeo delle competenze digitali del Digicomp definendo le competenze di cui i consumatori hanno bisogno per operare in modo attivo sicuro e deciso nel mercato digitale Digicomp Org ha l'obiettivo di facilitare la trasparenza e la comparabilità tra le iniziative coerrate in tutta Europa e può anche svolgere un ruolo nell'affrontare la frammentazione e lo sviluppo ineguale tra gli stati membri essere utilizzato anche come strumento di pianificazione strategica per i responsabili politici e promuovere politiche globali per la diffusione efficace delle tecnologie digitali di apprendimento da parte dell'organizzazione di informazione a livello regionale nazionale ed europeo ed essere utilizzato anche come un mezzo per creare consapevolezza circa l'approccio sistematico necessario per l'utilizzo efficace delle tecnologie digitali di apprendimento qui faccio notare anche lo strumento che fa riferimento al digicom blog Elselfie che è uno strumento online mirato a sostenere le istituzioni scolastiche nel riflettere attovalutare le strategie per una scuola digitali in essere nel proprio istituto questi sono fondamentali importanti per i dirigenti scolastici docenti e studenti per fotografare insieme le proprie pratiche ed uso delle tecnologie bene come avete notato perché il perché appunto dobbiamo fare riferimento a livello europeo per capire meglio a livello italiano dobbiamo stare essere a pari passo con le competenze europee ricordate il grafico in quale scale noi siamo a partire dal 2019 come sempre un abbraccio caloroso dal mondo di Jerry siete veramente piaciuto il video iscriviti al canale regalandomi un sorriso noi ci vediamo nel prossimo video condividi commenta qualora fosse necessario ciao ciao